L'immaginario, che appartiene alla patologia, no? Non appartiene a... Certamente al quotidiano, oppure all'arte. Avvocato, io veramente non posso perdere il mio tempo. Vengo comunque a precisare che io non c'entro un cazzo. Sto pezzo di merda. Se così fosse, l'immaginario collettivo. Cioè la collettiva ha scritto paranoia. La paranoia, cioè la collettiva. Sì, adesso, adesso ovviamente ha toccato il fondo. Adesso è addirittura in crisi. Permetti di sparare puttanate! Ed ora, le proiezioni! Avete ancora sete? Bella domanda. Sete? Ma di che cosa? Avete ancora sete? Spagniamo questo incontro? Ho capito. Lo so, lo so, lo so. L'immaginario, che appartiene alla patologia, no? L'immaginario collettivo è in crisi. Cioè la collettiva schizoparanoia. La paranoia, soprattutto collettiva. Adesso, adesso veramente ha toccato il fondo. Adesso è addirittura in crisi. Tocco Dio! Fati rispetto, troia! 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 Ma l'ha buttato? Oh Dio! Troia! Sei una troia! Non dimenticare questo. Prima era ancora più sconvolta e si è tranquillizzata. Io ho preso di tranquillante, proprio, insomma mia. Perché stavo impazzendo. Non lo faccio più. Stai dritta! Non lo faccio più. Non lo faccio più. Non lo faccio più. Non lo faccio più. Stai dritta! Questo vuol dire assoluto! Stronzo! 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 Cazzo! Stronzo! 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 Grazie a tutti.